stiamo arrivando verso il monte merlino questo praticamente siamo quasi siamo all'antecima come vedete questa radura bellissima con questo bellissimo pienile che una volta era molto più piccolo e c'era addibito la truppa adesso ve lo faccio vedere meglio e la sopra è una delle due cime qui dove infuriò la battaglia dei lupi di toscana contro gli austriaci come vedete questo era un ex è stata costruita con la barra qua sopra la barra militare e adesso noi ascegliamo arrivare in cima al monte merlino